Meraviglia, meravigliosa, questa è una macchina stupenda, non ha un grafio, è una Fiat 500 L13, turbodiesel, multijet, naturalmente 95 cavalli, EO6 di tempo, vuol dire che potete circolare ovunque, anche in piazza del Duomo, insomma, non proprio lì. Però, cruise control, telefono, ecco qua il chilometraggio, 39.000, fantastico, poi naturalmente la sua radio, la presa USB, l'aria condizionata, manco a dirlo, anche l'interno, non ha un grafio, io se gli tolgo le targhe, questa macchina qua la vendo come nuova, sedili perfetti, non hanno segni di usura, anche i sedili posteriori sono tenuti molto molto bene, non so chi la usava, nessuno. Guardate che roba, anche il piano di carico. Dove trovare questa vettura? Alla Linti Car, a Castelletto di Branduzzo. Venite numerosi, ciao!